Come va Sor Loreto? Sempre male, poi buttamme per terra con un dedo. Ma in sostanza, capite? Eh, lo speziale dice che è un male che si chiama Beto. Mi dà fastidio di salire le scale? Altro si me lo dà, ci vuole aceto. E beh, affare dei nervi, Sor Loreto, tutto affetto del tempo. E all'ospedale ci siete stato? A me? Dimmi, coglione. Non sai che all'ospedale ci sei mori? Avete mille e poi mille ragione. Lassate far, lassate far, signore. E vedrete la buona stagione se tornate addassù meglio di un fiore. Grazie a tutti.